per gran finale di Parklife, gran finale di gran parte dei concerti di Blur e gran finale anche di questo incontro. Io vi ringrazio per aver partecipato appunto stasera a questa presentazione, speriamo che sia stata interessante, che vi abbia fatto venire voglia di andare a riprendere il disco e che vi abbia fatto voglia di venire anche ai prossimi incontri. Settimana prossima abbiamo appunto, come dicevo, What's the story, Morning Glory degli Oasis, ce ne parlerà Alessandro Riccardo, qui presente, eccolo lì, e quindi avremo l'altra campana, l'altra voce di Goal Sounds che parlerà dell'altro gruppo fondamentale del Britpop e poi continueremo con gli appuntamenti delle prossime settimane. Vi ricordo un'altra cosa interessante che venerdì 29 marzo, quindi venerdì della prossima settimana, farò una sperimentazione, nel senso che porterò il formato questo di Audio Forum in un'altra sede, non a Limerick, ma all'apertura e cocktail bar che sta a zona San Carlo, via D'Alemane, via D'Alemane, un bar nuovo che hanno aperto, per cui facciamo un Audio Forum in orario più serale, quindi alle 21, su tutta musica da viaggio. All'interno del Tour Festival, che è appunto il Festival del Cinema di Viaggio, parleremo di vari artisti diversi, per cui ci saranno David Bowie, ci saranno i Crapper, che ci saranno, non mi ricordo cos'altro, i Birds, ci sarà un po' di tutto, insomma, musica da tutte le epoche, accomunate però dalla tematica del viaggio, dei mezzi di trasporto, del viaggiare. Se volete venire a vederlo, l'ingresso è gratuito e vi aspetto, oltre che il 27 appunto con Alessandro, venerdì c'è anche questo incontro, in cui che presenterò io appunto all'apertura cocktail bar. L'ho fatto l'estate scorsa, è una versione aggiornata e rivista, come si dice in questo caso. Quella era la prova. Bene. Vi ricordo brevemente che questo è il sito di Goalsounds, www.goalsounds.it, lo stiamo molto rivedendo ultimamente, trovate piano piano, stiamo costruendo l'archivio dell'Audio Forum, quindi tutti gli incontri che abbiamo fatto nel corso di tutti questi anni, li stiamo caricando con i video delle riprese Facebook e materiali, in maniera che uno che ha perso un incontro lo può andare a rivedere, in più trovate ovviamente le solite notizie, informazioni, gli eventi di Goalsounds e molto altro. Questa è la pagina Facebook, è uno dei mezzi più comodi per raggiungerci, su quale potete avere tutte le informazioni, questi sono tutti i nostri contatti, goalsounds.it, siamo su Facebook, Twitter, su Instagram, abbiamo anche il canale Telegram. A questo proposito, qui davanti c'è un foglio, se ci volete lasciare il vostro indirizzo e-mail, vi mandiamo la nostra newsletter mensile, quindi una al mese, senza tormentarvi troppo. Se ci lasciate il vostro numero di telefono, vi iscriviamo al nostro canale Telegram, su quale oltre alle informazioni sugli eventi di Goalsounds, ci sono anche tutte quante le news dal mondo musicale che ci piacciono, per cui concerti, nuovi dischi che escono, notizie di tutti i generi e le avete direttamente sul vostro cellulare. Grazie ancora per aver partecipato a tutti e, ah sì, se non avete lasciato i 3 euro lì c'è la cassettina, mi fa gesto grazie e speriamo di vedervi la prossima volta. Grazie. Grazie.